La Iesina crede fortemente nei play-off, il mister Bellucci crede fortemente anche a lui nei play-off, quello che vorrei dire, ci sono 8 partite da disputare, 3 partite in casa, 5 partite in trasferta, 24 punti ancora da poter prendere e magari qualche punto da poter rosicchiare a Real Metà o Fermana, ecco, come vedi questa situazione? Ma sì, è una situazione ancora molto fluida, c'è anche il Tolentino che secondo me potrebbe rientrare in gioco, è chiaro che noi non possiamo fare la corsa su questo o quell'altro, dobbiamo fare più punti possibile e dobbiamo per forza di cose fare, secondo me, qualche vittoria anche fuori casa perché le ipotetiche tre vittorie casalinghe da sole non basterebbero. Molte volte a livello di gioco siamo andati molto vicini alle vittorie, anche esterne recentemente, per tutti mi ricordo Montegranaro o Macerata con la Fulgor ma anche Real Metà che poi abbiamo perso. Sarà il caso di concretizzare un po' di più quello che abbiamo fatto da sempre nel campo, essere un po' più concreti come per esempio ci è successo domenica scorsa contro la Fortitudo Fabriano e non fare calcoli perché io sono convinto che noi per il gioco espresso, per quello che abbiamo fatto, per quello che si è costruito in questi 7-8 mesi di vita comune insieme a tutto l'ambiente, insieme ai dirigenti, insieme ai collaboratori, a tutti quelli che lavorano intorno alla Iosiena, io sono convinto che abbiamo lavorato per meritarci i play-off e quindi questo deve, come dico ai giocatori, deve essere anche uno stimolo, dobbiamo pensare che nessuno ci deve togliere quello che noi stiamo meritando. Ma magari iniziando prende qualche punto domenica? Sì, adesso sarebbe facile dirlo, difficile sarà farlo, io mi aspetto una partita molto difficile perché la San Benedetto ha un'arma in più che è la tranquillità, quando l'abbiamo incontrata noi non era serena l'andata e questo un po' ci agevolò all'inizio, è una squadra fortissima che però noi dovremo affrontare secondo me senza snaturare molto le nostre caratteristiche perché non siamo una squadra che siamo abituati solo a far giocare gli altri, noi dove siamo andati abbiamo sempre cercato di imporre il gioco, è chiaro che a San Benedetto non sarà totalmente così, però sono convinto che è una prova importante, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere troppa emozione perché sono queste le partite che ti fanno capire se tu sei pronto per arrivare tra i primi cinque o se ancora c'è un po' di immaturità, io sono convinto che con l'entusiasmo che abbiamo, con la gioventù, la freschezza che c'è nella squadra, sono convinto che noi comunque siamo maturi per questo traguardo, poi bisogna fare i conti sicuramente con la domenica della San Benedetto perché se questi giocano e ti mettono sotto non è che puoi fare tanto, anche se sono convinto che saranno partite equilibrate. Quindi ci auguriamo da sportivi e da tifosi di vedere una bella partita, un bel gioco del calcio ormennità? Io penso che sia l'occasione giusta perché la posta in palio è comunque importante per tutte e due, sono due squadre che giocano, che hanno buonissimi giocatori tutte e due, il San Benedetto è magari un po' più celebrato a livello di nomi, noi però a livello di collettivo, a livello di squadra abbiamo sempre dimostrato di batterci con tutti a viso aperto, credo che su 30-31 partite, io credo che chi ha visto le partite della Iesina si può essere annoiato un paio di volte, arrabbiato un altro paio di volte perché non sono andate come speravamo, però in larga maggioranza ha visto comunque giocare un discreto calcio per queste categorie e io spero per tutti, prima di tutti per i tifosi della Iesina, per i tifosi della San Benedettese e per gli sportivi in genere che a Riviera delle Palme si scriva un'altra pagina importante del nostro calcio che è un calcio solo apparentemente direttantistico ma che credo in San Benedettese e Iesina racchiude il meglio che ci può essere perché non me ne vogliano le altre squadre, anche la Fermana o la Vispesaro, credo che dopo la San Benedettese in questo campionato sia a livello di piazza che a livello di tifosi che a livello di interesse ci sia la Iesina, poi dopo centrare i play-off o meno, questo è un altro discorso ma io credo che San Benedettese e Iesina sia veramente la partita delle partite di questa eccellenza del 2009-2010. Bene Gianluca, Riviera Oggi di San Benedetto del Tronto e Nazareno Berotti il suo direttore ha pensato di omaggiare questo archivio importante perché qui c'è tutto il campionato della San Benedettese eccellenza 94-95 e c'è anche l'articolo dove hai vinto a San Benedetto del Tronto, quindi questo è un grande omaggio che noi ti consegniamo. Grazie, grazie e che sia anche di buono auspicio, perché no?